I tre rapinatori immobilizzarono i dipendenti della banca usando fascette per bloccare cavi elettrici, li privarono dei cellulari e li chiusero in una stanza, si impossessarono dei soldi e fuggirono a bordo di un'automobile guidata da un quarto complice che li attendeva all'esterno. Il colpo, che fruttò alcune migliaia di euro, avvenne all'ora di pranzo, poco prima della chiusura, mentre non c'era alcun cliente all'interno. Lo scorso 2 novembre, nella filiale delle banche venete riunite di Via Fondi, a Roana, nel Vicentino. Per quel colpo i carabinieri hanno arrestato tre uomini di età compresa tra i 54 e i 39 anni, tutti originari del palermitano e già noti alle forze dell'ordine. Due sono stati posti ai domiciliari, uno è stato rinchiuso nel carcere napoletano di Poggio Reale, il quarto complice è ancora ricercato. I carabinieri hanno visionato le immagini di videosorveglianze e ascoltato vari testimoni, risalendo prima all'auto utilizzata e poi all'identità dei rapinatori.